11 lavoratori in nero e un esercizio totalmente sconosciuto al fisco. Questo l'esito dell'intensificazione dei controlli della Guardia di Finanza nel Pesarese nel solo mese di maggio. 11 lavoratori in nero su 54 identificati al momento dell'accesso in 20 esercizi controllati. Nello specifico del territorio di Monte Labate, un locale che utilizzava lavoro sommerso, è risultato addirittura essere sconosciuto al fisco. Nell'ambito dei controlli sono state anche effettuate 32 verifiche in materia della corretta emissione telematica degli scontrini e delle ricevute fiscale, dove sono state riscontrate 13 irregolarità. Oltre alla capillare attività su strada, contrasto di consumo e sostanze stupefacenti, l'attività ispettiva delle fiamme gialle sul territorio ha permesso anche di sequestrare penalmente 392 capi d'abbigliamento contraffatti e confiscare amministrativamente 185 articoli di casalinghi per violazione degli obblighi in materia di etichettatura. Grazie. Grazie.